La mia nonna, il trugolo cambia ma i porchi resta e anche quest'anno cambia il governo ma la celeria sociale è sempre la stessa. Apertura serale dei negozi, si apre la macelleria sociale letta, ex Monti passata gestione, macelleria sociale a base di austerità, biglietti e libera offerta. La mia nonna, il trugolo cambia ma la celeria sociale, si apre la macelleria sociale, si apre la macelleria sociale. Vi togliamo il lavoro, vi chiudiamo un ospedale, partecipate alla letteria. 80 miliardi di risparmio per l'Inps grazie alla manovra Fornero, 80 miliardi di euro in meno nelle tasche dei pensionati nei prossimi dieci anni. La disoccupazione aumenta tra i giovani in lavoro. È troppo comparsa, c'è una comparsa, non è che può prendere il bigliettino a me anche piatto. Ma va bene la comparsa, va bene. Ed ecco una volontaria. Adesso ci faremo spiegare da questo giovanotto cosa ha trovato lei nella letteria, ci dica, ci dica. Grazie per il giovanotto immeritato. Mi mostri, mi mostri, noi stiamo... cosa sta scritto? Che ho scritto, niente, le legga. Larga l'intesa, stretta la via, questo è il governo dell'ipocrisia. Bravo, bellissimo. Lei ha vinto un biglietto figo. Beh, anche questo è sicuro, eh. Eh. Macelleria sociale, offerte all'età. Riparte la macelleria sociale. La gioppa. Questa cosa è disperata. La macelleria gioppa. Non tutte le ciabbelle riescono col buco. Non tutte le riodelle... Non tutte le rotelline dovrebbero rimare con il buco. Le rotelline... Come diceva mia nonna... E non lo restano con il buco. E il trugolo cambia... Ma i porti resta... Travolta dalla macelleria sociale. Non lo so che non si è là così... Nella notte bianca la macelleria sociale porterà un po' di colore. Rossa. Ma qual è il tercotto? Non so, credo così taglia. Cos'Italia? Cos'Italia? La vita è una zona che sui anni prima. Il tercotto è un po' di colore... Lo so, è un po' di colore. La sch spatio è un po' di colore. È un po' di colore. È un po' di colore. Grazie a tutti.